Di cosa parliamo oggi? Di alcune cose carine legate al brand positioning, perché ieri ovviamente ho fatto una breve diretta, oggi la faremo uguale, intanto che andate a pranzo e state mescolando il ragù potete ascoltarmi anche solo come voce di sottofondo. E mi piacerebbe parlare, in realtà, per chi si approccia all'argomento, del concetto del brand positioning rispetto al marketing istituzionale o marketing accademico, cioè come mai il posizionamento di marca non è mainstream nelle università? Quindi, di conseguenza, non essendo mainstream all'interno delle università, pur essendo RIS insignito all'interno della marketing o l'OFEM, eccetera, eccetera, ma non ci sono i suoi libri realmente in tutti i programmi come dovrebbe essere universitari, non lo ritroviamo nemmeno all'interno delle big companies, delle grandi aziende. In realtà alcune sì, poi lo vediamo, ma nella media si fa altro all'interno delle grandi aziende, quindi questo porta a una serie di conclusioni sbagliate, ok, nella testa delle persone, che è importante cercare di sbrogliare. Non è che sia facilissimo, ma ci proviamo insieme, ok? Allora, passaggio, parto da una cosa, da un video che ho fatto ieri per spiegarvi, in realtà, una cosa carina. Allora, stamattina mi sveglio e mi trovo un messaggio sotto il video, carino, di Marco Biola che mi scrive, Marco mi scrive, probabilmente sbaglio io, ma io ricordo chiaramente un video, addirittura, e non uno scritto, in cui si parla di mancato aumento di fatturato per Lamborghini producendo Urus, citando come errore anticipato, paragonandolo all'esempio di Porsche con il loro Cayenne. O sbaglio? E c'era anche qualche altro messaggio, no, ma tu avevi detto che la Urus non avrebbe mai funzionato, eccetera, eccetera. Allora, questa cosa, ragazzi, io risposto a Marco, ma lo ridico per comodità didattica, per farvi capire, si chiama Effetto Mandela. Effetto Mandela è quando voi, avete presente in Guerre Stellari, quando Luke dice a Darth Vader, no, meglio, scusate, Darth Vader dice a Luke, 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 io sono tuo padre, ok? Quella battuta non esiste, perché la battuta in originale è, no, io sono tuo padre, ok? L'effetto Mandela è ricordarsi visivamente, auditivamente, eccetera, eccetera, delle cose che non esistono, che non ci sono mai state, tendenzialmente, ok? Ora, che cosa ha fatto Marco? Io gli ho postato la cronologia e gli articoli, in realtà, gli ho detto, Marco, guarda, no, in realtà, l'unico post, in realtà, nel quale io abbia mai parlato di SUV, nel quale tu hai preso spunto, in realtà è questo, gli ho postato l'articolo da Brand Position in Italia, un articolo del 2015, che si chiama Chi altro vuole distruggere il suo brand con l'estensione di linea, dove effettivamente c'era, io parlavo della Cayenne e scrivevo, perché già nel 2015, ragazzi, ormai sono passati nove anni, ok? Quindi in tempi completamente non sospetti, spiegavo alle persone, guardate che la Cayenne non è estensione di linea, smettete di rompere i coglioni, ha creato una nuova categoria, che è quella del super sportivo. Io ho qualche perplessità, cioè non mi piace, tendenzialmente, all'interno della Porsche, ma come me non piace nemmeno agli appassionati, per esempio la Macan, giusto per dirne una, e insomma tutte quelle, le versioni dei poveri, come si chiamano? La Cayman, mi sembra quell'altra, che è la 911 Tarocca, piccolina per i poveri, ok? Bene, perché? Per tutta una serie di modelli, non è che non si vendono, ok? Non è che non ne hanno venduta neanche una, ok? Ma in realtà è come fare il Rolex economico, cioè tendono a diluire senza motivo e a cannibalizzare le vendite dei modelli principali, e il brand tende un pochino a diluirsi. Non è che la Porsche fallisce se fa la Macan, o fallisce se fa la Cayman, ma per capire se qualcosa è corretto o meno ti basta, chiedere alle persone che cos'è, cioè nel senso, se io ho la Cayenne, cosa c'è? Il Cayenne, e tutti hanno capito, ma se io dico per esempio a qualcuno che macchinai o la Macan, o Macan, non so neanche come si chiama, ok? La gente non mi dice, ah, mi dice, e che cazzo è? E io gli devo rispondere, guardate perché è estensione lì, no? Cosa gli devo rispondere? È la Cayenne piccolina. Allora, quando a uno gli devo rispondere che la mia macchina, devo usare il nome di un altro brand e spiegargli come la mia è la versione più piccola, più sfigata o diversa, cioè, ragazzi, ci si arriva da soli che non è una grandissima idea. La Porsche fallisce perché ha fatto la Macan? No, ok? Non ne vende neanche una, ma certo che le vende alle mogli di quelli che hanno la Cayenne, probabilmente, cioè quello è il dato, ma significa che è una buona cosa? No, non è una buona cosa come se la Rolex facesse i Rolex economici invece che mantenere solo i Rolex tendenzialmente top di gamma e sfruttare, per esempio, far girare molto velocemente e mantenere il prezzo lato, addirittura anche nel mercato dell'usato. La stessa cosa è la 911 Tarocca, che sarebbe il Cayman, si chiama, correggetemi ragazzi voi che siete esperti, ok? Quando ti chiedi, che macchina hai la Cayman e che cos'è? È la 911 dei poveri, cioè, vorrei ma non posso, vorrei la 911 ma non posso. Si capisce ragazzi che, cioè, diluisce tendenzialmente il brand, non è che sia questa grandissima operazione di marketing, no? Poi non ne vendi neanche una, ma certo che le vendi, il problema è che innanzitutto cannibalizzi un po' il brand, poi io che volevo comprarmi la 911, per esempio, che è una grandissima macchina storica, magari non la compro, io i soldi ce li ho, perché c'è della gente che va in giro dicendo io ho la Porsche con una macchina da 40.000 euro usata, eh? Sta sui coglioni, quindi, cioè, diluisci il prestigio del brand. Poi è chiaro ragazzi che nei momenti di espansione, di mercato in crescita, eccetera, eccetera, tutte, l'abbiamo visto storicamente, perché in automa, tutte le marche automobilistiche tendono, partono focalizzate e poi tendono a estendere lino e a incrociarsi nei vari settori. Ma questa è la norma, però accade anche per chi osserva i mercati, che quando le vendite vanno male, o semplicemente la macroeconomia tende a crollare, le aziende tornano a focalizzarsi, come la Ford, per esempio, che si è iper rifocalizzata solo sui pick-up, eccetera, e tantissime, se le andate a vedere, marche automobilistiche hanno tagliato nel corso degli anni i modelli, tutte le volte che c'è una contrazione di mercato. All'interno, in realtà, proprio di quell'articolo, quindi io lì parlavo, per esempio, della Cayman, spiegando però che non era una sensazione di linea, aveva creato il nuovo, la nuova categoria, no? Cioè, brand supersportivo, scusate, SUVsportivo. E parlavo non della Urus, questo è l'effetto Mandela, parlavo della Levante, cioè, in realtà, della copia della Maserati, cioè, come la Maserati aveva copiato la Cayman con questa macchina che, io ho detto, probabilmente non funzionerà. E se leggete l'articolo, perché è lì, non c'è scritto perché è un'estensione di linea, l'unica cosa che avete capito è perché è estensione di linea, se è estensione di linea muoiono tutti, non muore nessuno se fa estensione di linea, non sicuramente la big company, ma c'è un motivo specifico, un'analisi di brand molto specifica, nella quale io spiegavo il problema della Levante, non è la Levante, per me è la Maserati, cioè che ancora non ha ritrovato, diciamo così, un posizionamento come brand in sé, non la Levante. Perché dovrei comprare una Maserati rispetto ai suoi concorrenti di gamma? Non c'è questa risposta e quindi quello che dovrebbe fare un'azienda quando è in difficoltà è cercare di rifocalizzarsi magari sui suoi prodotti core, sul suo prodotto core e ridargli un'identità differenziante in modo che qualcuno capisca perché debba comprarla. Quindi se tu sei già in difficoltà, il tuo brand è già diluito e lanci un nuovo modello che non è cercare una nuova categoria, ma è la Porsche sta facendo, è più o meno nel nostro segmento, nella nostra testa, la Porsche sta facendo i soldi perché ha lanciato il SUV, eccetera, eccetera, e allora anche noi lanciamo il nostro SUV. Questo è il ragionamento da accademico, da CEO o da amministratore delegato, da direttore marketing, quei direttori marketing nelle grandi aziende non contano un cazzo, in realtà questa è la verità. Quindi il direttore della produzione, insomma, chi ha scelto di fare questa cosa, lo fa secondo i principi scolastici del... Cioè si è aperta questa nuova nicchia, cioè questo nuovo segmento, si chiamerebbe nel loro linguaggio, questo nuovo segmento si è aperto, ci sono queste persone che stanno facendo i soldi dentro e quindi anche noi ora ci entriamo per prendere la nostra quota di mercato. Ragazzi, a scuola ti insegnano questo, ok? A scuola ti insegnano questo. Peppe dice... Aspetta che vedo... Allora, quasi gli stessi orologi prezzo dimezzato a una marchio totalmente diverso, ok? Sì, infatti Beppe dice... Rolex, infatti, è la Tudor come versione meno costosa, cioè ha un altro brand. Bravissimo, Peppe. E non a caso, tornando alla Rolex, per esempio, se ci fate caso, Rolex spinge tantissimo, e non ci guadagna niente internamente, in realtà, sul mercato dell'usato. Cioè nel senso, fa in modo che ci sia uno shortage, così tanto i suoi prodotti, che addirittura l'usato non sia per loro un concorrente, perché anche l'usato è carissimo. Quindi anche se tu compri un Rolex usato, nessuno ti dice l'hai comprato usato, perché è carissimo. Come un altro esempio molto calzante, le Birkin di Hermes, si chiamano, ok? Le Birkin di Hermes le compri usate perché nuove non le trovi, ok? Quindi in realtà creare shortage, cioè se tu crei la... Tornando prima, no? La Porsche. Se tu crei la Cayman, ok? Cosa stai facendo? Stai creando concorrenza, non necessariamente per la 911, ma nuova, ma stai creando concorrenza per il tuo mercato dell'usato. Non dovresti farlo, lo dico così, ok? Poi magari non siete d'accordo, prendete quello che dico e lo buttate al cesso, prendete una foto di un riss e ci date, fate quello che volete. Io vi spiego come funziona. Se non vi piace, ragazzi, perché vi dovete offendere? Non mi seguite o prendete quello che dico, lo mettete in un cestino e sta lì, funziona così, ok? Ma non è che c'è da parlare, ok? Quindi, al netto di questo, stavamo dicendo, il problema della Maserati è questo, cioè fa estensione di linea in quel momento, in un momento nel quale il brand è debole. Se il brand fosse estremamente forte, ovviamente non ci sarebbero problemi. E infatti ho pubblicato quello che dice lui. No, ma io mi ricordo che hai citato lo studio dell'aumento dei fatturati, ma era quello della Levante. Cioè, se voi leggete l'articolo, c'erano proprio le dichiarazioni di Maserati che dicevano che non abbiamo raggiunto gli obiettivi e sta andando sempre peggio. Eccetera, 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 ok? Ma al di là di questo, al di là dell'effetto Mandela, è vera una cosa, in realtà, ok? Cioè, voi tendete a confondere ogni tanto, per chi magari segue in maniera distratta, per esempio magari il mio gruppo, io ho preso per il culo, questo è vero, ok? L'URUS per una vita. Perché? Perché mi fa schifo. E non perché quando la Volpe non arriva... Io l'URUS ne compro una al mese, tranquilli, con i soldini che ci sono nel Salvatanare. Non ho bisogno di fare i leasing come voi altri, ok? Ma al netto di quello, ma non mi piace a gusto personale e non penso nemmeno che sia una buona macchina, nel senso che per me è un Audi ricarrozzata. La Lamborghini, il suo posizionamento è la Ferrari con le linee più estreme, perché quello è la versione futuristica, no? È Automan, ok? Perché è vecchio negli anni Ottanta, che era la Countach ridisegnata con i led sopra. Quindi è la supercar più estrema tra quelle commerciali, senza andare a prendere quelle che ne fanno dieci all'anno la zona Pagani, ok? Cioè, tra Ferrari, tra virgolette, Lamborghini, la Lamborghini è quella che viene più estrema. Se io guardo la Purosangue e la vedo e basta, io dico quella è una Ferrari, senza vedere il bollino. Se io non sapessi che l'URUS è una Lamborghini, dite la verità, non sembra una Lamborghini. Perché? Perché lo sapete che è l'Audi ricarrozzata, gli hanno cercato di dare qualche linea leggermente più, ma, ok? Quindi non è che dovete fare i tifosi, ragazzi. Qui stiamo parlando di un'altra cosa, che se a voi piace, e ne hanno vendute tantissimo, quindi il mercato dice che alla gente piace, va bene? Ma io ho il diritto, no, di scherzare sul fatto che per me l'URUS mi faccia cagare. Perché? Ma mi fa cagare, anche come esperto di posizionamento di brand, per me non è una Lamborghini, cioè nel senso, non ha le linee estreme di una Lamborghini. Paolo Rangoni giustamente dice, è la Q8, certo, Paul, è la Q8 Ricarrozzata, ma lo sanno tutti, no? Però, non è che la gente non te lo compra, c'hai due soldini, ok? La Lamborghini è troppo estrema come macchina, perché ovviamente non ci puoi andare in giro, eccetera, eccetera, ti fanno una Lamborghini cinque porte, perché alla fine quello è la Lamborghini familiare, la puoi comprare, dire che c'è la Lamborghini, certo che la gente la compra, e ne hanno comprate tantine, ok? Non è che abbiano fatto, se voi guardate i numeri totali dell'evento, non è che siano questi numeri clamorosi a livello mondiale, però diciamo che rispetto a prima, sicuramente la Lamborghini, come se come casa, vendeva di più, rispetto a che vendere solo la Huracan, ok? E l'altra, che adesso non mi mette nemmeno come, come si chiama in questo momento, che è quella di punta, ok? Ma al di là di quello, quindi il punto è che, un conto è, a me scappa da ridere quando vedo la Huracan, un conto è pensare, ok, che quando tu fai qualcosa, soprattutto un brand che funziona, non funziona, il problema della Lamborghini, come mi ha detto ieri, è questo, cioè nel senso, io ieri parlavo con Alessandro Vignolo, mi ha detto, guarda, io ho riletto il tuo articolo, un articolo del 2021, tra l'altro, il primo era del 2015, quello che ho scritto tra la Huracan, tra la Urus e la Purosangue della Ferrari del 2021, comunque ci sono passati tre anni, comunque anche lì, e il dato è, mi ha detto, guarda, è tutto vero, ma in realtà bastava una frase, cioè se la gente avesse il cervello, c'è una frase, basta che capisci quella, cioè la Lamborghini ha perso, potendo arrivare prima nel mercato, come è arrivata prima, ha perso l'occasione di creare la categoria e quindi di creare l'hammer, il suo hammer nel settore, suv supersportivi, se lo avesse fatto esattamente come tu hai detto nell'articolo, la Ferrari, arrivando dopo, avrebbe creato qualcosa che è l'hammer della Ferrari, rotondo, quadrato, questo è quello che ti spiega il brand positioning, significa che se non fai questa cosa, tu non vendi neanche una macchina, o significa che non venderai macchine? No, significa che in una scala da 1 a 10, dove 10 è l'optimum, che è quello che dico io in termini di lanci, di posizionamento di marca, tu al 10 non ci sei, hai preso il tuo brand, hai deciso di spalmarci sopra l'ennesimo prodotto, che vendi per tutta la serie di motivi che abbiamo spiegato, ma non è l'optimum, ok, in termini di posizionamento, hai perso la possibilità di creare l'hammer della tua categoria, fine, ok, se tu avessi creato l'hammer della tua categoria, avresti, creando un brand da zero, avresti potuto mettere la Ferrari dietro, non lo hai fatto, la Ferrari ha creato la puro sangue, e ti ha fatto un culo che metà bastava, fine, esattamente come c'è scritto nell'articolo, quindi, non abbiate, e se no ragazzi, cioè, torniamo come quando io, c'è stato per esempio, Elon Musk, per chi se lo ricorda, che è passato qualche anno, che dormiva sotto la scrivania, faceva cazzate, scherzate, si dedicava a fare scemenze, i razzetti, i lanciafiamme, cazzi, e Tesla andava di merda, c'è stato qualche anno, dove Tesla zoppicava, non funzionava la produzione, non uscivano, erano mezze fallate, c'è una produzione di ritardo, io, nel mio gruppo, parlando con la gente, scherzare, lo prendevamo per il culo, ma non è, la gente è arrivata, ah, tu hai detto che Tesla sarebbe fallita, non ce l'avrebbe mai fatto, no, ok, perché ci sono i filmati, noi abbiamo fatto un corso, se eravamo io e un RIS, ok, che poi è gratis, perché lo potete vedere, che è brand vendita.com, è diventato, quindi è disposizione, e vedete che cosa abbiamo, cosa Al ha detto di Tesla, che ovviamente avrebbe creato la categoria, delle auto elettriche, quindi avrebbe sfondato, eccetera, eccetera, se poi io prendo per il culo Elon Musk, perché si embriaga, ok, mette sulla pancia, invece che concentrarsi a fare le Tesla, si mette a fare i razzetti, non è che io sto facendo lezione, qualunque cosa io dico, quindi bisogna che li ripigliate col cervello, ok, quindi, Antonio Calabro chiede, la URSS avrà un motore Lamborghini? Boh, Antonio lo so, non sono un esperto del settore, non ne ho idea, spero, spero per loro, ok, quindi, poi, ah, ecco, Rick dice, loro stessi poi si sono ammorbiditi con l'RS, quoto, andando a riusare moltissimi pezzi, vedi, tra le altre cose, quindi è assolutamente così, ma, quindi, tornando a noi ragazzi, quindi, cercate di non creare nella vostra testa, cioè, guardate gli iscritti ufficiali, guardate le cose vere, che diciamo durante i corsi, non prendete, cioè, le battute o le cazzate per dire, ah, allora la URSS non funzionerà, ma non è così, cioè, quando anche uno commette un errore, questo è il passaggio, in termini di posizionamento, non è che l'azienda fallisce, cioè, non è che è acceso, spento, bianco, nero, allora, la Maserati è un enorme problema in termini di percezione, per esempio, di brand, e quindi, se lancia un SUV, ha dei problemi, perché il brand di per sé ha dei problemi, la Lamborghini non ha questo problema, perché? Perché il brand è fortissimo, cioè, è la Ferrari Extreme, per quelli che probabilmente hanno già una Ferrari, ok, e vogliono la seconda supercar, quindi la Lamborghini, normalmente, è l'auto di chi ha già una Ferrari, e si compra anche la Lamborghini, o, è l'auto di quelli che non possono comprarsi la Ferrari, perché non gliela danno, la possono comprare solo usata, e quindi tamarrano con la Lamborghini, ok, sto scherzando da loro, Frank ce l'ha con la Lamborghini, no, ok, ripigliatevi col cervello, quindi, in realtà, il punto vero, qual è? È che la Lamborghini è un brand estremamente forte, un brand appetibile, ma è come se io, l'abbiamo detto mille volte, no? Se io domani, mi mettessi a vendere, non lo so, i Rolex a metà prezzo, probabilmente ne venderei un casino, ok, non è che non ne venderei, quindi per dieci anni, o per cinque anni, nessuno si accorge di niente, ce ne accorgiamo dopo un po', perché il brand ha perso, probabilmente nel medio-lungo periodo, di quella attrattiva, che all'inizio, non è che non monetizzo, se faccio delle cose, e come abbiamo detto, comunque la Lamborghini semplicemente, cioè, ha creato, allora, qual è il principio di brand, studiamo questo insieme, qual è il principio di brand più importante? Il principio del branding più importante è, prima la categoria, poi il brand, vero? Quindi pensare, prima la categoria, poi al brand, orris 101, ok, orris 101, 101, ok, bene, prima la categoria, poi il brand. Siamo d'accordo? se non siamo d'accordo, grazie, perché vi sto sul cazzo, vi sto sul cazzo, e non parliamo più, io sono, non è che me la prendo, è che sono permaloso, ma se siamo d'accordo, allora analizziamo quello che ha fatto la Lamborghini, Lamborghini ha preso, la categoria che era vuota, cioè quella del SUV sportivo, perché la Ferrari ancora non c'era entrata, e ci è entrata con un'estensione di linea, cioè, con la Lamborghini qualcosa, in quel momento, è vero o no? Quindi, ha fatto il contrario, ha fatto prima il brand, e poi la categoria. Se avesse fatto l'Humber, invece di chiamarlo Lamborghini, avrebbe spaccato di più, avrebbe dato degli enormi problemi a Ferrari, in quel segmento, che è un segmento importantissimo, di enorme crescita, punto, la Lamborghini fallisce, perché non ha colto questa occasione, no, no, non è che è bianco o nero, ok, cioè, non è che è così, bene, quindi, Alfonso Simeone dice, riportare il ragionamento alle nostre misurevoli SRL, che stanno costruendo brand, dalla misura esatta di dove siamo oggi, e di dove ci si augura di essere tra dieci anni, ok, bravissimo, adesso ci arriviamo, ok, allora, passaggio importante, cioè cerchiamo di arrivare a noi, in realtà, allora, vi avevo provesso che avremmo parlato del concetto del marketing istituzionale, non istituzionale, cioè del marketing accademico, allora, il marketing accademico, noi lo vediamo all'opera tutti i giorni, tutto il giorno, tutti i giorni, cioè il come si fanno le cose, eccetera, eccetera, dove lo vediamo? Su base quantitativa, prima che qualitativa, nei supermercati, perché nei supermercati, voi vedete, cioè esiste un turnover enorme, di prodotti sugli scaffali, ci sono costantemente lanci di nuovi prodotti, questi lanci di nuovi prodotti, sono fatti, da grandi aziende, normalmente, nel grosso, la maggior parte, sono grandi aziende, che lanciano nuovi prodotti, e la maggior parte di questi prodotti, sono estensioni di linea, di prodotti già esistenti, quante volte, ragazzi, scherziamo interno, la Coca-Cola, la Cilindra, ogni X anni, provano a rilanciare sta roba, la Coca-Cola, la Fraga, la Cilindra, e falliscono, e tutte le cose, però ogni tanto, la Coca-Cola, il limone, ma c'hai la Fanta, che cazzo lancia, è tutto così, no? Ok, bene, questo vale per tutte le, le grandi case di produzione, tra la Procter & Gamble, che fa i suoi brandini, e sono bravi, ok no, a parte gli scherzi, perché vi cito questa cosa? Perché, ci sono, i dati, che non sono, fraintendibili, e non sono argomento di discussione, per i quali, in GDO, cioè nella grande distribuzione, nei supermercati, diciamolo in italiano, ok, nei supermercati, quando voi andate al supermercato, voi non ci fate caso, ovviamente, perché è tutto molto veloce, ma la media, è che l'80%, quindi 8 su 10, dei prodotti, che vengono lanciati, da grandi aziende, quindi con i grandi, questa grande accoppiata, diciamo, CDA, direttore marketing, che poi non conta un cazzo, sono un direttore della comunicazione, è agenzia creativa, che si occupa di fare il lancio, la comunicazione, la campagna, quindi questo, questa trimurti, del marketing universitario, quindi il CDA, che decide, che affida, al direttore marketing, di triangolare, con un'agenzia di comunicazione, che faccia la comunicazione, per questo nuovo prodotto, che va a scaffale, 8 su 10, non lo dico, ragazzi, potete cercarlo ovunque, potete cercarlo anche con, cercatelo con l'intelligenza artificiale, di, quanti prodotti, nella GDO, ok, andate su CiaGPT, o quello che vuole, che cazzo, non so quali usate, quanti prodotti da GDO, spariscono dallo scaffale, entro un anno, e CiaGPT, così come i siti, vi rispondono, a seconda del settore del prodotto, dal 70 all'80%, questi prodotti, spariscono entro un anno, spariscono, entro un anno, questa triangolazione, questa triangolazione tra super laureati, grandi dirigenti, altro laureato in marketing, grande dirigente, mega, cavalier, Fidi Put, ingegner, MUMAM, con l'agenzia di comunicazione istituzionale e creativa, falliscono, 8 prodotti su 10, 8 prodotti su 10 falliscono, questo vale in media, nella GDO, e lo vedi più velocemente, ma nel mondo, è esattamente così, in qualunque settore più o meno 8 prodotti su 10 spariscono, falliscono e cosa vuol dire? Non è che 8 su 10 falliscono perché è troppo poco, non è che 20 hanno successo, 8 su 10 sono così gravemente in perdita che le aziende decidono di accettare lo stop loss cioè distruggere e rifare la produzione i macchinari, cazzo eccetera smantellano tutto pur di non continuare a perdere tutta quella mole di denaro del restante 20% non è che hanno tutti successo, qualcuno è sotto il break even ma lo tengono in piedi sperando che, qualcuno va a punto di pareggio e lo tengono lì una micro fettina ha successo qual è la micro fettina normalmente che ha successo? Ma voi, scusate addosso, quando bevete mangiate qualcosa o quello che possedete fateci, a meno che non compriate per il prezzo, cioè nel senso siate persone con una capacità finanziaria molto limitata e quindi compriate all'interno di discount, che non c'è niente di male lo dico per dire, ma quanti di voi comprano realmente come fan estensioni di linea di qualunque cosa? La verità la verità, cioè quanti di voi comprano dei sub-brand un po' sfigati? Perché nessuno e anche all'interno della GDO quali sono i prodotti quelli che esplodono? Sono i brand nuovi, non esplodono mai le estensioni di linea di qualcosa la Coca-Cola non farà mai soldi con la Cherry Coke non succederà mai questa cosa così come non farà mai i soldi con il suo Energy Drink ma lo stesso lancio hanno dovuto comprare il 17% della Monster tra l'altro semplicemente per competere perché al cinquantesimo tentativo di lanciare il loro Energy Drink con tutti i loro soldi con tutti i loro esperti laureati eccetera eccetera non ce l'hanno mai fatta ma ve la faccio ancora più divertente la Red Bull probabilmente grazie a Dio che è nata da un austriaco che è andato al mare in Thailandia ha bevuto sta roba che davano con la gratta checca in spiaggia e ha deciso l'avendo e gli ha messo sto nome Red Bull e come funziona la Red Bull? La Red Bull funziona perché innanzitutto ha creato una categoria nuova quindi è un prodotto nuovo non è un'estensione di linea di qualcosa è un Energy Drink prima gli Energy Drink non esistevano ma ci sono tante cose che hanno funzionato Red Bull quindi c'è il Visual Hammer quindi c'è il Toro Rosso in particolare quindi ti dà l'energia eccetera eccetera ma in più anche negli ingredienti per esempio per farvi capire quanto è solo marketing voi quando guardate gli ingredienti per esempio della Red Bull che cosa c'è? i due ingredienti fondamentali acqua e piscio di gatto gassata ma c'è la caffeina e insieme alla caffeina che serve ovviamente a darti il tono a stare su c'è la taurina che la taurina serve anche quella per dare il simbolo il toro forte come un toro eccetera eccetera se non fosse che per chi di voi non lo sa se non ci fosse la taurina sarebbe meglio cioè nel senso la taurina che è un amminoacido ha un effetto rilassante non è un effetto energizzante la taurina io la prendo per andare a letto ce l'ho di là ok io prima di andare a letto faccio un po' di glicina ok il mio magnesio un po' di nositolo un po' di taurina e vado a lei e dormo come un bambino perché è un mio rilassante è un rilassante la taurina ha effetto rilassante perché c'è? per due motivi probabilmente io non lo so non glielo ho chiesto perché c'è la mente io immagino che ci sono due motivi uno pratico in realtà mascherato dal marketing e uno di marketing uno perché se dici la taurina la gente dice oh c'è la taurina il nome non la taurina c'è la taurina ok e quindi la taurina ok io penso che sia qualcosa che mi dà energia in realtà è un rilassante è come prendere il magnesio cioè rilassi ok bene il secondo è che in realtà ha un effetto ansiolitico che tende a contrastare in realtà gli effetti ansiogeni generati dalla caffeina quindi in realtà tu bevendo Red Bull ce ne bevi troppo probabilmente la caffeina se è un minimo sensibile comincia a darti effetti gravi come tachicardia ansia anche attacchi di panico per quelli sensibili la taurina in realtà compensa ed evita che ti venga questa sensazione di ansia in petto e quindi ne puoi bere di più quindi a queste due cose ok Roberto Boscia prendi il mental proprio in andare a letto ok bene quindi no è solo per farvi capire ragazzi come funziona quindi tornando a noi ok il punto ragazzi qual è è che quello su cui noi ci dobbiamo concentrare è quello che funziona per noi e che cosa funziona per noi in questo momento funziona la storia cioè nel senso il brand positioning non è Orris diceva sempre guardate che ci sono centomila scuole o idee di marketing là fuori non dovete studiare marketing è una frase di Orris bellissima dovete studiare la storia il brand positioning è se lo volete gli cambiamo nome è lo studio della storia è uno studio storico dei successi e degli insuccessi nel mondo del marketing il marketing ancora oggi tutto il giorno tutti i giorni dimostra che l'approccio accademico e le persone super laureate ad Harvard con 110 lode che vengono messi alla direzione delle grandi aziende sbaglia se metto anche almeno 9 prodotti su 10 e quello che funziona normalmente non è mai un'estensione di linea se voi io ho letto il programma all'interno dell'accademia marketing della Bocconi c'era il programma di branding e c'era me lo ricordo come se fosse ieri cazzo l'ho letto tipo 10 anni fa studiare come estendere il raggio d'azione del nostro brand all'interno no il contrario brand positioning è il contrario cioè il concetto di focus ok solo che a scuola ti insegnano cosa ti insegnano ti insegnano a inseguire normalmente soprattutto se gestisci una grande azienda e quindi il punto qual è è che esistono altre aziende che stanno aprendo dei segmenti di mercato e tu ci vuoi entrare anche tu cioè a scuola ti insegnano anche io cioè a guardare normalmente questi hanno lanciato i saccottini in quante volte abbiamo parlato scherzando da me le gatti ma era così questi hanno lanciato i biscotti al cioccolato e li facciamo anche noi con il nostro brand non ha senso questa cosa questi hanno lanciato i saccottini e anche noi facciamo i saccottini con la marmellata con il nostro brand ok ma a scuola insegnano queste cose cioè a cercare i segmenti di mercato che si stanno aprendo e cercare di capire con la potenza del mio brand quanta percentuale di mercato posso grattare e monetizzare ma non è detto che sia realmente profittevole il vero problema ragazzi è Galbani che voi avete in testa ok Galbani perché per chi ha la mia età si ricorda che una volta quando eravamo ragazzini c'era la pubblicità che diceva Galbani vuol dire fiducia bene Galbani è un tumore nella vostra testa nel senso che l'associazione anche di questi grandi esperti che però nel mondo reale io se ci cassi ragazzi nove prodotti su dieci sarei fallito da un po' questi hanno licenza di uccidere e amen allora Galbani non vuol dire fiducia nessun brand vuol dire fiducia ma nella testa di queste persone c'è il concetto di il nostro brand è noto è famoso è conosciuto è rispettato la gente si fida di noi quindi se io appiccicherò il mio brand su un altro prodotto per me sarà più facile venderlo invece che creare un brand a zero ci siamo ragazzi a scuola ti insegnano questo cioè fin dove puoi estendere il raggio a senso del tuo brand e appiccicarlo fino a quale livello di estensione di prodotto puoi appiccicare il tuo nome perché perché il tuo nome vuol dire fiducia ma in realtà nessun brand vuol dire fiducia o meglio i brand vogliono dire fiducia in che sono estremamente focalizzati cioè io ho fiducia perché tu fai quella cosa e sei specializzato in quella cosa e quindi io mi fido che tu sei leader di mercato di quella categoria ed essendo specializzato in quella cosa ed essendo tu leader di mercato di quella categoria io mi fido che tu vendendomi quel tipo di prodotti o servizi tu sia affidabile di fiducia eccetera eccetera non significa che tu possa traslare galbani vuol dire fiducia cioè se fai i formaggini cazzo sui frigoriferi non funziona così ci sono gli studi ragazzi che dimostrano tra le altre cose che in termini di investimento anche economico l'investimento necessario per far partire un prodotto appiccicandogli il nome di un brand esistente e creando un brand a zero sono uguali sono sostanzialmente non è che costa di meno cioè se tu ci metti Lamborghini non è che costa meno in realtà ok se tu ci metti Galbani se tu ci metti Nike non è che costa meno in realtà costa uguale però perdi dall'altra parte la possibilità di fare che cosa di creare una nuova categoria con un nuovo naming un nuovo brand eccetera eccetera quindi se Valentino cosa dice allora vediamo Valentino Saucir Belisto seguendo questo concetto che c'entra l'Urus con Lamborghini allora fa bene la Ferrari che si attiene a quello che ha sempre fatto ma no perché Ferrari non fa quello che ha sempre fatto Ferrari ha fatto la puro sangue cioè cosa c'entra l'Urus con la Lamborghini ha creato una nuova categoria che è quella del SUV che è esistente super sportivo è la creazione della nuova categoria poi come ho detto mille volte poteva farlo meglio creando un brand a zero sì ok fallisce no ne vende comunque tanti perché la gente qualunque roba tu gli metti Lamborghini ve la spiego meglio così ci capiamo nessuno fallisce cioè io ho una lista di persone che si fida di me chi di voi è un mio cliente un mio studente si fida di me normalmente perché sa come lavoriamo allora io se prendo domani la faccio a scherzo ma cercate di capire la verità di quello che dico se io prendo la la mia lista clienti e da domani cominciamo a chiamarvi tutti e oltre che dirvi c'è questa cosa c'è questo evento vi dico oh già che ci siamo sai che abbiamo dei nuovi frigoriferi bellissimi in offerta ma non è che devi cambiare il frigorifero te lo mando lo provi io da domani sulla mia lista vendo anche i frigoriferi quindi se guardo il mio conto economico alla fine dell'anno e lo scompatto e vedo tra tra i fatturati frigoriferi io ho venduto cioè con centinaia di migliaia di persone con i miei venditori vendiamo un fracco di frigoriferi e quindi quest'anno il conto economico è migliore di quello dell'anno scorso grazie al fatto che noi ci siamo messi lì a vendere frigoriferi o televisori è una cosa intelligente per la mia azienda fare una roba del genere se guarda i soldi oggi probabilmente sì ma ha senso no non è che fallisco ma la gente dopo un po' comincia a dire sì però questo Frank Meren come cazzo è messo ma perché deve vendere i frigoriferi gli va male il business della formazione gli va male il business dell'editoria gli va male l'agenzia comincia a chiedersi queste cose che cazzo vendi i frigoriferi quindi nessuno muore in realtà se è robusto finanziariamente o se può dedicare al tentativo di lancio di un prodotto una frazione di quello che il suo conto economico che cazzo gliene frega non muore nessuno ok quindi l'Adanone la Pampers qualunque brand che cazzo gliene frega di provare a lanciare ci provano ok poi nel 99% dei casi è sbagliato ogni tanto trovano un produttino che a scaffale rimane normalmente tutti i lanci delle grandi aziende che funzionano sono quando in realtà non sono lanci ma vanno a comprare le start up cioè i brand che già hanno sono fatte tutto il culo quindi le grandi aziende ragazzi oggi non lanciano più brand a zero fanno acquisizioni c'è la Red Bull che viene comprata la Monster che viene comprata tutti i grandi brand in realtà che hanno creato nuove categorie guardate Facebook Facebook che si è fagocitato Instagram poi si è fagocitato Whatsapp eccetera difficilmente lanciano tutto quello che ha provato a lanciare Facebook di suo che non aveva già testato qualcun altro è una merda i visori abbiamo visto ieri ho pubblicato l'articolo nel terzo trimestre come si chiama l'Oculus 3 come cazzo è tagli dell'80% alla produzione in questo trimestre il metaverso hanno speso non so quanti migliaia di miliardi ed è completamente fallito dove hanno fatto bene quando sono andati lì hanno detto bello questo Instagram adesso lo compro hanno fatto così Whatsapp bello adesso lo compro perché funzionava già perché qualcuno l'aveva già creato aveva creato una nuova categoria e ci hanno provato normalmente loro da soli non sono capace provate ad andare a vedere esiste un sito in inglese adesso non mi ricordo come si chiama è il si chiama il cimitero di Google ok lo guardate e vedete nel corso degli anni da quando Google è nata tranne il motore di ricerca tutte le cose che hanno provato a lanciare prodotti servizi a Don dai Google Glass al mitico Google Plus che doveva fare il culo a Facebook tutti questi enormi fallimenti c'è anche della Apple in particolare il periodo è bellissimo quello del periodo quando era fuori Steve Jobs ok c'è una roba una serie di prodotti minchiate sono falliti no hanno rischiato in alcuni casi l'Apple si hanno rischiato di andare culo e 48 se non lo richiamavano Steve Jobs ma in realtà nella media ragazzi è quello che accade per noi qual è il messaggio importante al quale noi ci dobbiamo attenere in realtà allora noi dovremmo stare in realtà a concentrare le nostre energie le nostre risorse in prodotti che sono allora innanzitutto prodotti per i quali ci sia una domanda ok quindi ci sia quel famoso concetto dello stratrito della folla affamata cioè sarebbe il caso visto che non abbiamo soldi di provare a lanciare dei prodotti che qualcuno cerca io l'altro giorno leggevo per esempio c'era il hanno lanciato a Milano aperto il nuovo ristorante vegano cioè il fast food vegano che è un co-branding tra mi sembra Leonardo Di Caprio ed Hamilton eccetera eccetera e lo hanno lanciato io non so come andrà per l'amore di Dio secondo me in teoria ne parlerò in un altro video ok però diciamo che possa essere una cosa buona ma loro hanno raccolto per fare questa azienda hanno fatto un paio di round mi sembra hanno raccolto tipo 100 milioni di dollari per lanciare questa azienda voi io ecco non vi direi domani mattina aprite il vostro hamburgeria vegana perché magari se vi va male voi cadete e vi fate male Hamilton Di Caprio i soldi ce li hanno e i soldi non ce li hanno messi loro perché hanno fatto dei round quindi in realtà ok quindi stiamo attenti quando facciamo le cose quindi cerchiamo visto che non abbiamo soldi cerchiamo di entrare in un mercato dove c'è comunque una domanda che è interessante due un mercato dove noi ci sono dei prodotti o dei servizi sui quali possiamo spingere in termini di marketing e perché abbiamo una differenziazione cioè siamo veramente per qualche modo diversi più bravi migliori eccetera eccetera nel poter erogare un certo tipo di prodotto un certo tipo di servizio se noi siamo una delle coppie degli altri è difficile fare marketing poi mettendo insieme queste cose mi serve un prodotto o una serie di prodotti non è ragazzi che non esistano gli upselling e i cross selling non è che potete urlare sempre all'estensione di linea cioè esiste cross selling esiste upselling esiste down selling quindi non è che qualunque cosa uno faccia le insegno dal giorno uno verità o bugia allora non urlate a qualunque cosa estensione di linea estensione di linea sembrate di rincoglioniti smettetela ok cioè se non capite almeno non parlate una regola semplice ok se non capite almeno non parlate almeno non vi fate danni e non fate lucubrazioni che vi portano a fare cazzate se non capite chiedete ok la regola è questa frequentate corsi studiate ok confrontatevi chiedete non fate da soli se non capite questa è la cosa migliore quindi allora mi serve una folla famata mi serve qualcosa dove nella folla famata io sia veramente bravo che ci siano dei margini importanti per sostenere le campagne di marketing e lasciarmi ovviamente un po' di ciccia attaccata quindi poi di utile rispetto all'attività che sto facendo e ancora mi servirebbe focalizzarmi all'inizio su un prodotto o servizio che sia scalabile cioè significa che non dipende l'erogazione di questo prodotto o servizio non dipenda da me perché il mio tempo ora è durante il giorno ecco sono otto ore se lavoro tanto sono dieci ma finito quello io non riesco a fare altro quindi mi suicido queste sono le quattro cose importanti della focalizzazione e del brand positioning da piccola media impresa ok folla affamata idea differenziante vera il fatto che ci siano i margini ok quindi devo avere marginalità e perché se vendo roba la quale non ho marginalità quante volte la gente io ho detto ragazzi la margherita in pizzeria non va bene perché se voi la chiamate col brand margherita la gente se la vendete sopra i 6 euro vi bestemmia fatela uguale cambiate gli nomi vendetela 10 e ci avete una marginalità netta totale molto più grande ma anche lì la gente bestemmia perché non capisce cosa dico ma va bene quarto il fatto che sia scalabile cioè che non sia legata direttamente a voi quando voi avete trovato questo prodotto o l'insieme tra virgolette di questi prodotti che potete utilizzare siete nella fase start up della vostra azienda orris spiegava sempre ci sono due momenti di un'azienda c'è il momento iniziale che è quello più importante nel quale l'azienda sta decollando il take off dell'azienda e poi c'è un momento nel quale l'aereo è arrivato in quota e può fare altre cose cioè non è che Giorgio Armani deve fare solo l'abito ok Giorgio Armani fa anche le cinture fa anche i pantaloni quando vai dentro fa anche i portafogli fa anche le scarpe fa tutto fa le cravatte cioè quando vado dentro della via che sto comprando il vestito posso comprarmi anche le scarpe ma se io sono un vero appassionato probabilmente mi comprerò le scarpe Giorgio Armani no perché ci sono dei brand di scarpe di lusso che probabilmente preferirò ma non significa che nessuno le comprerà ma è un problema ok così come non è che nessuno compra la cintura di Giorgio Armani quando entro nel negozio o qualunque negozio di modi non è quello il problema è quando i ragazzi voi non dovete guardare i grandi brand cosa fanno oggi cioè gli stupidi fanno questo segnatevi questo gli stupidi guardano cosa i grandi brand fanno oggi e dicono vedi che lui ha fatto vedi che Lamborghini ha fatto non dovete guardare quello che i brand fanno oggi voi dovete guardare quello che i brand hanno fatto per diventare di successo e profittevoli e sopravvivere innanzitutto i primi decenni della loro vita e nessuno è nato con ampie gamme di prodotti anche se oggi quando vado dentro a cioè se vado dentro al negozio di Armani è chiaro che ha tante cose ma non è nato così ok Hermes non è nato così anche nei brand della moda non mi dicono no perché dicono ma i brand di moda hanno tante cose sì ma nessuno di loro è nato studiate la storia studiate come sono nati i vari brand di moda e vedrete che nessuno cazzo è nato con un'ampia gamma di prodotti quando sarete la Disney ok potete fare i peluci i pupazzetti le cannucce le bevande i giochi i videogio non è un problema perché avete delle IP ok quindi sono intellectual property quindi dei brand tendenzialmente e li potete appiccicare su tante cose che sono afferenti al divertimento all'intertenimento eccetera eccetera ma fino ad allora ragazzi voi dovete rimanere nella visione startup cioè che cosa non guardate le aziende non mi rompete la wallera cosa fa questa azienda non ve ne deve fregare niente voi dovete guardare studiate la storia cosa ha fatto questa azienda per nascere crescere sopravvivere negli anni iniziali difficili dove non c'erano tanti soldi per poi riuscire a diventare una grande azienda voi dovete copiare quello quindi non dovete studiare il marketing oggi della Nike dovete capire la Nike quando è nata come cazzo ha fatto la Nike come ha fatto a superare che non accade quasi mai nella storia è successo due o tre volte il brand numero due come ha fatto a diventare il brand numero uno che è nello sport apre come cazzo ha fatto dovete studiare quella roba lì all'inizio quando sono nati questi brand che cosa hanno fatto cosa hanno fatto ok la Red Bull che oggi vai c'è sgasata sgasata al gusto pesca al gusto quando è nata come ha fatto a diventare l'azienda più grande che era la categoria un cazzo tipo quello ok ed è stata lì a dura e matura tutti i grandi brand nella storia nascono sul nella fase di decollo con la focalizzazione quando un domani verrà il tuo domani sarà con i tuoi poteri tu salvi il futuro dell'umanità corre e va per la terra vola e va tra le stelle tu che puoi diventare gig ok domani al momento non siete gig ok quindi dovete fare per cortesia la roba focalizzata quindi non cercate costantemente anche con la bassa se mi permetto comprensione di alcuni principi del brand di guardare in giro i grandi brand questo ha lanciato poi ho lanciato quell'altro questo ha lanciato questo questo non fate sta roba non fate sta roba ok non fate sta roba cercate di capire che cosa ha reso un'azienda grande all'inizio faccio un esempio io non mi tiro le scarpe perché sembra brutto io sono un grande fan delle scarpe sketcher le scarpe sketcher sono il terzo brand più venduto al mondo la maggior parte di voi nemmeno le conosce allora al primo c'è la nike le scarpe sportive al primo c'è la nike nike in italiano il secondo è adidas quindi sono circa 30 miliardi fa nike all'anno 17 miliardi fa indicativamente adidas no scuote 14 ho detto una balla quindi 30-14 e circa 7-8 quest'anno ha fatto 7.8 miliardi la sketcher poi ci sono la puma e asics e new balance e altre dietro perché in realtà dietro a due brand che si sono sempre contesi la scarpa più performante eccetera eccetera c'è la sketcher fa delle scarpe performanti no perché la sketcher si è focalizzata sul concetto di scarpa sportiva più comoda di tutti quindi la scarpa sportiva che ci puoi camminare all'infinito da passeggio go walk hanno il brand eccetera eccetera oggi hanno i modelli si infilano da soli non devi nemmeno chiuderle coi lacci le slip in è nata così ed è diventato il terzo brand da una roba in cantina è diventato il terzo brand più importante perché ha deciso un angolo di attacco diverso ha deciso una focalizzazione allora ha trovato guardate c'era una folla affamata sì un sacco di gente comprava le scarpe da ginnastica bene ha detto questi su cosa sono focalizzati tutti sulla performance prestazione fighetteria fantastico bellissimo ok due guardiamo lo schema che abbiamo visto prima due avevano una differenziazione ha detto sì mentre tutti questi si focalizzano sulla performance noi ci focalizziamo su un'altra parola chiave su un altro attributo comodità eh abbiamo i margini sì nel senso le facciamo fare mi sembra sono in Vietnam ok quindi fanno fare le scarpe in Vietnam e te le rivendono e quindi hanno i margini quarto le deve fare il signor sketcher le scarpe no ok e quindi hanno creato un brand bene oggi se voi andate sullo store sketcher io ho comprato confesso ho comprato delle estensioni di linea mi sono comprato una giacchetta della sketcher antimento carinissima perché perché la tecnologia che loro hanno è più leggera rispetto alle altre comodina ho comprato un paio di pantaloni ho comprato le calze ma loro non sono nati così ok io ero cioè della via che ero nel negozio stavo facendo acquisti ho comprato anche altre cose ma loro non quindi esiste questo principio ma loro non sono nati così loro per anni per conquistare nella testa dei clienti il loro posizionamento hanno fatto solo scarpe e solo all'inizio di un modello con il memory foam dentro eccetera eccetera e la tecnologia Archfit ok che è solo quello hanno fatto quando sono cresciuti e sono diventati grandi eccetera hanno cominciato con i cross selling eccetera e non è che sono morti nel fare questa cosa ma c'è un momento nel quale l'azienda decolla è un momento nel quale l'azienda è in quota e può fare altre cose nessuna azienda ragazzi è nata con l'ampio catalogo se questa cosa la capite ve la mettete via orris voleva che non è che mi ha dato il sigillo a me nel cervello solo tu puoi voleva che i suoi insegnamenti diventassero diffusi gratuitamente come io cerco di fare nel senso di ordine pubblico tutti dovrebbero capire queste cose e poterle usare purtroppo c'è questa enorme resistenza il marketing ragazzi è veramente come è al contrario è all'ammerso come direbbero i miei amici i trimoni di Bari cioè il marketing ci sono i terrapiattisti al governo cioè nel marketing hanno vinto i terrapiattisti che sono quelli della brand extension e noi che siamo quelli che studiano la storia cioè la scienza la storia è anche scienza perché sono eventi ripetuti nel tempo abbiamo perso questo è ok quindi è come se io fossi Galileo che continua a dire oh raga cioè è la terra che gira intorno al sole non è il sole che gira intorno alla terra e in tutte le università cazzo in Italia e nel mondo si insegna no Frank bisogna mandarlo a rogo perché è il sole che gira intorno alla terra quindi i terrapiattisti i ragazzi nel mondo del marketing hanno vinto basta ok non c'è da parlare ok quindi purtroppo visto che i terrapiattisti nel marketing hanno vinto e continuano a sostenere che il sole che gira intorno alla terra eccetera orrisco non avrebbe voluto questo voleva che questi concetti fossero gratuiti arrivassero a tutti e la gente potesse approfittarne ok e quindi io vorrei che voi cominciaste a capire queste cose in maniera semplice ma senza bisogno di diventare fare delle discussioni da bar cominciate a semplicemente studiate oggi le informazioni sono anche disponibili sono gratuite cioè studiate la storia cioè come è nato questo brand cosa vendeva all'inizio per quanti anni è rimasto focalizzato a duro armature quando lui ha cominciato quali erano le condizioni chi erano i concorrenti quella categoria esisteva non esisteva i concorrenti cosa facevano quanto erano estesi cosa vendevano cioè se voi prendete qualunque brand di successo e lo analizzate con queste poche informazioni vi rendete conto che la storia conferma quelle cose lì non è inutile che la gente scrive nei gruppi no ma non è vero la teoria di orrisco è stata smentita tante non è stata smentita mai mai è stata mai ok perché tu non la conosci non hai capito nella tua testa un'azienda deve vendere solo un prodotto non è così orrisco ha spiegato un'altra cosa che esistono due fasi la fase di decollo esiste la fase di quota nella fase di decollo devi rimanere il più focalizzato possibile affinché un attributo importante di quella categoria o meglio la categoria stessa se sei arrivato per primo addirittura venga attribuita a te poi puoi lanciare tranquillamente altri prodotti altri non è che era scemo orrisco non entrava nei supermercati ok cioè voi prendete la gente c'è dei geni assoluti per pazzi questa cosa a me mi fa impazzire ok cioè secondo voi orrisco non era mai entrato dentro un supermercato e quindi pensava però è vero anche che l'altro principio se voi prendete il non so neanche se ce l'ho qua a volte ce l'ho sicuramente no vabbè non ce l'ho qua il libro che ho scritto con Orris le sette leggi del marketing per il ventunesimo secolo c'è il principio del concetto del decollo e poi l'azienda in quota ma c'è anche il concetto che il futuro è delle aziende multi brand cioè nel senso ragazzi voi potete fare quel cazzo che volete e vendere tutti i prodotti i servizi che volete se ne avete le risorse organizzative economiche eccetera eccetera sarebbe meglio e sarebbe più efficace per voi se al lancio di qualcosa di nuovo creaste un brand da zero appositamente che venisse identificato con un attributo una caratteristica di quella nuova categoria che state creando o entrando in una categoria preesistente un brand nuovo che dicesse noi siamo quelli che hanno questo attributo all'interno di quella categoria e non attaccare il vostro brand su quel prodotto è molto la storia lo dimostra è molto difficile vi sta sul cazzo se vi sta sul cazzo attaccate il vostro nome su tutto e non c'è problema non è che mi viene il fegato fate quello che volete ma è una cosa stupida quindi voi potete fare tutti i prodotti che volete sarebbe meglio farli dopo un periodo di focalizzazione quando la vostra azienda ha dimostrato di funzionare di decollare di avere marginalità eccetera eccetera e in più quando lanciate altri prodotti utilizzate la strategia multi brand cioè cercate di creare dei brand nuovi non di appiccicare il vostro nome in modo che la gente dica ok questo prodotto ha questa caratteristica è diverso per questo motivo è unico per questo motivo se voi ci mettete il nome di un'altra azienda sopra probabilmente in quella categoria non riuscite a entrare così bene tutto lì questo è quello che voi dovete capire da non scienziati del posizionamento di un'altra ok quindi fine ok questo è un po' quello che vi volevo dire quindi faremo altre puntate spero interessanti vi ringrazio spero che Claudio dice noi fan delle scarpe da vecchi sì ok Giulio io sono sketcher eccetera eccetera Paolo dice però sembrano Nike come forme ok Stefania Salvatore dice ho appena incrociato tre persone una della Nike un Adidas uno sketcher eccetera eccetera ok bene è esattamente così ok quindi ragazzi queste sono le cose che vi volevo condividere quindi cercate di non farvi troppe seghe mentali di capire il significato delle cose ok grazie molto interessante grazie a te buona domenica a tutti ragazzi ok buon pranzo se state andando a mangiare e ci vediamo alla prossima ciao bacione fermo dove credi di andare te ne stavi andando senza iscriverti al canale vero vedi di non farmi arrabbiare iscriviti subito e attiva la campanellina non vorrai mica perderti la prossima diretta con tutte le strategie utili per raggiungere il successo giusto ok 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 Grazie a tutti.